Sono Francesca Scupelliti, presidente della Fondazione per la Giustizia Giusta Enzo Tortora e io sto con Errorigiudiziari.com. Perché? Beh, la fondazione di cui mi occupo la dice lunga, ma soprattutto perché bisogna farsi carico di altri casi tortora, di tutti quegli innocenti che stanno in carcere senza motivo, ma anche di coloro che ci stanno in carcere e che hanno bisogno dell'affermazione del diritto, anche diritto del colpevole.